Ricostruzione, Tares, Imu, Sindaco Antonio De Crescentis, questi argomenti sono in realtà le malefatte dell'amministrazione comunale di Pratola? Come sostiene l'opposizione? Intanto le malefatte presuppongono una cattiva fede, una cattiva gestione e un atteggiamento poco trasparente e poco legale. Questo per noi è assolutamente arabo perché noi siamo sempre stati trasparenti, siamo stati sempre nella legalità, abbiamo sempre cercato di fare il bene dei cittadini, ci svegliamo dalla mattina per fare il bene di tutti i cittadini quindi non vedo di che malefatte parlano. Io mi preoccuperei di altro, mi preoccuperei del fatto che qui i comuni italiani sono ridotti all'osso e questo per politiche fatte dal governo Berlusconi, dal governo Montipoi o comunque dai governi centrali mentre noi non riusciamo a respirare. Loro vogliono oscurare questo dato che è assolutamente un dato di fatto e che molte persone conoscono già e vorrebbero mistificare ancora scaricando sul sindaco di Pratola tutte le tasse possibili e immaginabili come se il sindaco di Pratola e l'amministrazione fossero felici di tassare. Sulla ricostruzione credo che i dati parlano chiaro, stiamo preparando un materiale che verrà distribuito nelle case perché vogliamo che per trasparenza le persone sappiano quante pratiche abbiamo nel nostro comune, quante pratiche abbiamo lavorato, quanti sono i finanziamenti che sono arrivati e quanti sono le pratiche che non sono assolutamente complete in quanto sprovviste proprio di progettazione. Io non posso approvare un progetto se non c'è, anche su questo tanta mistificazione. Altri comuni hanno fatto diversamente, non è un nostro problema. Noi lavoriamo con trasparenza, con tranquillità, con tanta serenità. Noi abbiamo fatto anche dei dinieghi perché qualche pratica non andava bene e l'abbiamo rispinta perché spendiamo soldi pubblici e non mi hanno spesi come se fossero bruscolini. Dopodiché per il resto credo che da un gruppo consigliare che non ha fatto praticamente mai proposte e che quando le ha fatte ha sfiorato anche il ridicolo sentirsi bacchettare tutti i giorni su queste vicende credo che sia tollerabile perché siamo in democrazia ma fino a un certo punto. Per cui noi aspettiamo i consiglieri Leone e Dinini in Consiglio Comunale per le prossime assiste aspettandoci proposte serie e concrete invece che picchiare sempre sullo stesso tasto in continuazione. Sono convinto che i bradolani così come due anni fa ci hanno dato tantissima fiducia lasciando a loro la rappresentanza non del 50% come sostengono ma del 29% che dobbiamo comunque rispettare, sapranno come dire valutare il nostro lavoro non in questa fase ma alla fine del nostro mandato e quindi io dico che ci possiamo rivedere con i consiglieri Leone e Dinino con tantissima serenità alla fine del nostro mandato. Saranno gli bradolani a gestire e a giudicare chi avrà lavorato meglio se l'opposizione che fa solo tante chiacchiere e tanti comunicati stampa oppure la maggioranza che lavora spesso anche sotto traccia in silenzio per il bene della collettività.